Con l'attivazione della fibra ottica anche a Cerce Maggiore, aumenta rapidamente in Morise il numero di comuni raggiunti dalla tecnologia che offre velocità di connessione fino a 1000 mega. Serviti sono ad esempio gran parte dei comuni che si affacciano sul versante morisano della Valle del Tamaro. Circa 7000 abitanti sono potenzialmente raggiunti dal servizio nei comuni di Cerce Maggiore, Cerce Piccola, San Giuliano del Sannio e Sepino. A dare notizia dell'importante innovazione tecnologica è ancora una volta Interfibra, l'azienda morisana partner commerciale di Open Fiber che invece ha realizzato l'infrastruttura in fibra ottica. Ogni comune raggiunto è una spinta in più per il nostro Morise, non solo le famiglie ma anche le aziende potranno avere enormi benefici dalla connessione in banda larga, afferma il management di Interfibra. E ci sono anche altri comuni in cui la fibra 1000 è arrivata proprio in questi giorni, dopo San Polo Matese e Campochiaro anche Colle d'Anchise, Sant'Elena Sannita, Roccamandolfi e Pescolanciano sono stati raggiunti dal servizio. In Alto Morise, Pesco Pennataro, Capracotta e Castel del Giudice, anche a Rocca Sicura si può navigare fino a 1000 mega. Sull'altro versante la fibra è in funzione a Lucito, Castelbottaccio e Civita Campomarano. Con queste nuove attivazioni dunque sono circa 100.000 persone potenzialmente raggiunte dalla connessione veloce in fibra in Morise in una trentina di comuni, tra cui Campobasso e Termoli. Ma in questi mesi il nostro impegno verso la popolazione molisana, spiega ancora il management di Interfibra, ci vede particolarmente attivi su un altro fronte, questa volta totalmente improprio e con investimenti tecnologici imponenti per portare Internet veloce anche in quei territori non serviti dalla fibra e nei quali la fibra stessa non arriverà a breve. Da sempre, afferma l'azienda molisana, abbiamo lavorato in tal senso portando Internet ovunque sia con la nostra rete che attraverso partnership con le più importanti realtà nazionali del settore, per offrire sempre una risposta al passo con le esigenze delle famiglie e delle imprese, anche nelle contrade e nei luoghi dove non è previsto a breve l'arrivo della fibra.